Un torneo importante, 33esima edizione, quanti bambini ci sono e perché lo organizzate? Allora, 33esima edizione sì, io sono 10 anni che lo organizzo e le scuole quest'anno sono 24 in questa fase qui. Oggi ci sono le quinte elementari, le quinte della scuola primaria, domani ci saranno le prime della scuola secondaria, oggi sono 24, domani saranno 35, quindi in totale 500 ragazzi tra oggi e domani. Ecco, una bella cosa, una bella giornata, insomma, si divertono loro e è anche per voi impegnativo. Ma ci divertiamo tanto anche noi, siamo fortunati oggi che c'è una bella giornata, però diciamo la verità, ci divertiamo tanto anche noi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.